Buongiorno Beer Food Attraction 2023 continua, ci troviamo allo stand di Doreca, l'azienda italiana che si occupa di catering e ci troviamo in compagnia di Luca Desiro, il direttore generale dell'azienda. Luca è un gran piacere accoglierti qui dinanzi agli schermi di OreccaTV e OreccaNews.it Piacere mio, buongiorno, benvenuti in casa nostra, siamo molto contenti di partecipare a questa edizione, un'edizione particolarmente importante, brillante, noi ieri abbiamo registrato un numero importante di presenze e crediamo che possa dare ulteriori soddisfazioni. Allora, raccontiamo intanto in un minuto quella che è la storia di Doreca. Doreca nasce oltre 30 anni fa, è un'azienda integrata, nata praticamente sotto la guida e la proprietà di Birra Peroni, copre tutto il territorio nazionale, nel 2011 viene fatto uno spin-off, viene venduta a una famiglia privata, oggi proprietaria del network, la di Afaranda e copriamo tutto il territorio nazionale con circa 25.000 punti vendita, con una capillalità distributiva nelle principali regioni d'Italia e siamo praticamente il distributore indipendente per dimensioni e fatturato più grande del paese, un'azienda completamente italiana. Ecco, allora parliamo prima ancora delle novità, ma giusto per conoscere meglio l'azienda Doreca, quanto sviluppa in termini di fatturato, parliamo per esempio anno 2022? Superiamo i 200 milioni di fatturato, siamo un'azienda multicanale, un'azienda che è rappresentata sotto il territorio con diversi canali distributivi, abbiamo il nostro core business che è concentrato sulla rete vendita degli agenti, contiamo oltre 500 agenti sul territorio, abbiamo un canale distributivo che è l'online, l'e-commerce che sta sviluppandosi, dandoci grandi soddisfazioni, ma soprattutto ultimo ma non ultimo per importanza abbiamo aperto una catena di store, di negozi, di showroom, che sono un vero fiorallocchiello che vi invito a visitare, dove all'interno dei quali troverete una profondità e un'ampiezza di gamma che sono unici non in Italia, ma secondo noi con un pizzico di presunzione in Europa. E allora parliamo delle novità che avete presentato in occasione di Beer & Food Attraction 2023? Per noi il Beer & Food Attraction è un evento importante e centrale per la categoria, siamo anche nel Consiglio Nazionale della Federazione Italgrove, ma questo è l'evento della categoria. Noi presentiamo delle nostre novità ed esclusive perché oltre ad essere partner per l'industria di marca, partner importanti, abbiamo anche delle importanti novità nel mondo della birra, alla mia sinistra dopo lo vedrete, immagino ci sono 18 impianti postazioni di birre nostre in esclusiva che abbiamo. Dalle nostre spalle abbiamo 4 cocktail station, le definiamo così, dove ci sono alle mie spalle oltre 250 articoli di liquori in esclusive di spirits provenienti da tutto il mondo che vi invitiamo ad assaggiare. Io non oso chiederti quante sono le referenze che fanno parte del catalogo di Doreca. Abbiamo ad oggi 13.000 referenze attive, giusto per dare una dimensione considerate che oggi i dati che abbiamo di mercato che ci vengono forniti da Aya Rai, parlano che un distributore mediamente gestisce circa 1.000 referenze, noi abbiamo praticamente un assortimento che conta 13.000 referenze, gestiamo 500 gin, 500 rum, 250 vodka, 800 marchi di birra, 2.500 etichette di vini, siamo in grado di soddisfare anche le esigenze dei consumatori più esigenti. Allora Luca, voi avete oltre 500 agenti sul territorio, riuscite a coprire in modo capillare tutte le regioni italiane, tuttavia c'è sempre, io dico, la maglia che si sbaglia, qualcuno che vuole entrare in contatto con voi perché ha appena aperto un'attività e desidera appunto scrivergli, avere un contatto diretto con voi, senza dimenticare che magari può esserci qualche volenteroso, nuovo agente che desidera proporsi con la vostra rete. Qual è l'indirizzo di riferimento per poter entrare in contatto con voi? Allora, noi abbiamo lo scorso anno inserito oltre 100 persone in azienda, a vario livello, dalla forza vendita, ragazzi che abbiamo introdotto praticamente all'attività di professionista della vendita con formazione, abbiamo inserito quadri, abbiamo inserito dirigenti, è un'azienda molto dinamica sul territorio, è un'azienda che costantemente fa attività di recruiting, vogliamo persone giovani, persone dinamiche, persone volenterose che si approssionino a questa professione che io ritengo una delle professioni più belle al mondo e quindi per qualsiasi cosa chioccioladoricaeventi.it ci contattate, siate voi clienti, siate voi giovani professionisti o siate voi anche professionisti senior che volete entrare nel mondo d'Oreca e noi vi ricontatteremo insomma per portarvi a bordo. Luca è stato un grandissimo piacere averti ospite ai nostri microfoni, ci rivedremo certamente in qualcuno dei nostri Oreca Focus dove approfondiamo i temi specifici della categoria, grazie per la collaborazione. Un piacere e un onore ospitarvi in casa nostra, grazie e buona giornata. Grazie, grazie ancora.